Ciao ragazzi, nuovissimo video, in questo video vi volevo mostrare tutti i miei prodotti mag che posseggo in realtà ve li faccio vedere tutti quelli che posseggo in questo momento perché non si sa mai se comprerò altri prodotti non sono tantissimi i prodotti, tanti li ho ritornati anche ai negozi perché li avevo già finiti come dicevo, tanti li ho riportati in negozio per i back to make, con quelli ho preso un rossettino che poi adesso vi faccio vedere due prodotti non li ho ancora aperti perché aspettavo di finire altri prodotti però sicuramente saranno validissimi e me ne parlerò presto in un nuovo video quindi parto subito con Queen New, è il Face & Body Foundation per viso e corpo io ho preso nella colorazione N2 e l'altro è questo qua il Prolonger Paint Pot Soft Ocre che ormai è famoso e quindi lo conoscete tutti poi di MAC ho il Prolonger Concealer questo qui nella colorazione NW20 vediamo un po' se riesce a mettere a fuoco vediamo un po' se riesce a mettere a fuoco poi ho cinque rossetti ho un Pink Blade che ho preso con il Back to MAC poi ho Velvet Teddy che ormai conoscete tutti poi ho Diva Rebel che mi sono supportato dall'America come mi avevo metto e poi New York Apple che in realtà non mi piace tantissimo però è questo niente ragazzi video super velocissimo perché come vi ho detto non ho tanti prodotti MAC spero ci sia presto un video aggiornamento dei miei prodotti MAC e spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo presto